La colpa è del sindaco che deve dimettersi subito, no la colpa è della protezione civile, anzi degli esperti e le previsioni meteo. Mentre il fango e la melma ostacolano le ricerche ed alimentano il giallo dei morti, che forse ci sono e forse non ci sono, mentre il traffico è paralizzato in buona parte di Viale Regione Siciliana perché l'acqua impedisce la circolazione, mentre si contano i danni, da ieri sera in atto la caccia ai responsabili con il patibolo popolare dei social che ha già parecchi candidati. Tutti indignati, tutti inferociti, sottolineando che quei tratti di strada sono sempre stati sede di allagamenti anche quando le precipitazioni sono meno intense. Che lo smaltimento delle acque piovane sia un problema storico di Palermo è cosa accertata. Le cose vanno dette e le responsabilità vanno chiarite, nessuno sconto va garantito a chi ha sbagliato, ci mancherebbe, con queste cose non si scherza. Nelle polemiche ovviamente si sono tuffati con straordinario tempismo alcuni politici che non hanno perso occasione per denunciare e sentenziare, per dire io lo sapevo, io l'avevo detto, la colpa è di questo e di quello. Forse non è il momento giusto, ci sarà tempo per regolare i conti e accertare responsabilità e mancanze. Tutti hanno il sacrosanto diritto di segnalare e di denunciare. Intanto c'è mezza città in difficoltà, ci sono i danni, ci sono i guai, ci sono i pompieri sottoposti ad un lavoro micidiale. Per la campagna elettorale bisognerebbe aspettare la fine di questa emergenza che dovrebbe vedere tutti uniti e non tutti in guerra. Non è il momento della resa dei conti, non è il momento della demagogia che porta consensi, aumenta la popolarità ma non risolve i problemi.